Una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra, oggi è andato tutto per il verso giusto. Il direttore di gara sancisce la fine, qual è la tua opinione sulla gara? Hanno costruito la loro vittoria partendo dalla difesa. La retroguardia è stata perfetta, il portiere non ha sbagliato nulla. Questa solidità difensiva ha dato loro tranquillità e fiducia anche negli altri reparti. È tutto per questa sera, un saluto e un ringraziamento da parte di Fabio Chiaressa e Luca Marcheggiani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.